Allora Michele, questa è la Torre Magliano, dove si trova l'agriturismo? Saluto! Aspetta, vediamo la gallerice, ecco la gallerice, zoomiamo un attimo la gallerice. La sta la gallerice, questa Torre Magliano, la sta le maglie di Bussui, mi si può dare? Aspetta un attimo, lo zoomiamo se lo troviamo. Allora la sta l'azienda, si, si vede l'azienda delle maggiori Bussi, quella è l'azienda messa. Vecchio, adesso vedi che hanno un po' questo tipo, come? Vecchio se lo stai Torre Magliano, vedi che se lo stai Torre Magliano, vai? L'agriturismo è Torre Magliano, sta qua su. Allora la sta la gallerica, la sta le stai muovate da Torre Magliano, se lo stai Torre Magliano. Oh, mica sta prima la gallerica, non sta prima la gallerica, sta anducchiata Vecchio. Allora, ora smettisco tutte le teorie di Michele Donostro. No, la voglio, vedi. L'agriturismo è Torre Magliano, si trova. Qua, che buono, non riesco a zoomare. Ma che cazzo stai dicendo? Purtroppo non solo non vivi senza orientamento, per quanto è pure cieco. Cos'è quella? Quella casa gialla, Michele. Quella casa gialla, lo sai che è? Quella è la casa dei maggiori Bussi, rimbambiti. Quella casa gialla, lo sai che è la casa dei maggiori Bussi, rimbambiti, 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 rimbambiti. Quella casa gialla, lo sai che è la casa dei maggiori Bussi, rimbambiti, rimbambiti.